Mi viene da ridere il Baffo, ciao carissimo. Tu penso che non abbia bisogno di presentazioni, Baffo. No, io vorrei augurare Buon Natale a tutti gli orchestrali di Romagna. E anche delle marche, perché ce ne sono anche delle marche, dei bravi. Comunque, questi orchestrali hanno bisogno di un Buon Natale e che abbiano sempre una buona salute, perché ci fanno divertire noi. Hai ragione, hai ragione, molto bravo il Baffo. Scegli il tuo paio di zoccoletti, mi dai il numero, grazie. Quello che vuoi, perfetto, perfetto. Ecco, un saluto, una rivedezza, te e la tua dolce moglie. Vai pure un altro bigliettino. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.